Edmond! Che c'è ancora Maria? Perché io non ho battute nel primo atto? Co-clan si becca gli applausi e io sto al balcone come un idiota! Ma siete stata voi a che... Volevate una donna remissiva? No! O credete che abbia problemi di memoria? Mi avete detto che lasciavate lo spettacolo! L'ho lasciato? No! Ora dove sono? È buon per voi! Visto che mi davate un foglietto al gioco... Ah! Oh mio Dio, mi è morta a fine primo atto! No, respira. È tosta questa. Bene, tiriamola su, procurate dei sali! Ma non può recitare, le serve un dottore! Le si è co-clan in scena per il secondo atto! Arrivo! Nessun'altra che sappia la parte? Io. La sapete a memoria? A memoria. Abbiamo un altro costume? Ne abbiamo due. In scena, fra tre minuti! Cosa? Ma io... Piacere, Roxanne. Christian de Noviette. Vi ricordate tutto, vero? Sì, eccetto il quinto atto. Cosa? Si parla, lo si sta alzando! Alla nostra! Alla nostra! Tanto a fin di ripresa io tocco! A fin di ripresa io tocco! Che potenza! A fin d'ogni ripresa! Che ora, Ragnu? Le sei e cinque. Io tocco! Oh, che stile ineguagliabile! Che avete a quella mano? Niente! Una stafilata! Correste una sventura? No, e neanche un'avventura! Credo che voi mentiate! Mi trema forse il naso? La bugia dovrebbe essere enorme in questo caso! Aspetto qui qualcuno! E quindi, se venisse, vorrei che ci lasciaste soli! Amate dunque i pasticcini croccanti? Oh, sì! Questa è una follia! È vero! Io non ho mai recitato! Ti credo! Giuratemi che andrà tutto bene! Andrà tutto bene! Su, diglielo! Andrà tutto bene! Voglio un bacio! Chi dei due? Forza in scena! Mi sento morire! L'onora vi supplico!